Ciao e benvenuto in Crescita Personale con Luca Sadurni, il podcast che ti aiuta a migliorare te stesso e la tua vita grazie alle migliori idee dei più grandi libri su felicità, successo, gestione del tempo, educazione finanziaria e crescita personale a 360 gradi. In questo episodio vorrei parlarti del libro Le vostre zone erronee di Wayne Dyer. Con oltre 35 milioni di copie vendute nel mondo si tratta di uno dei libri di crescita personale più letti di sempre. L'autore Wayne Dyer è uno psicologo americano diventato famoso proprio grazie ai suoi libri di crescita personale. Al cuore del libro c'è il concetto di zona erronea. Secondo l'autore una zona erronea è un comportamento autodistruttivo e nocivo che ci impedisce di essere felici. Molti di noi sono intrappolati in una o più fasce psicologiche erronee e si confrontano così con un ostacolo maggiore per il raggiungimento della propria felicità. Fortunatamente è possibile superare questi ostacoli e liberarsene per vivere una vita più serena ed appagante. Essere felici non è una faccenda complessa e Wayne Dyer ci propone un metodo per raggiungere la felicità basato essenzialmente sul buonsenso. Secondo Dyer infatti per essere felici bastano il lavoro sodo, il pensiero lucido, il buon umore e la fiducia in se stessi. E ovviamente l'essere liberi dalle 11 zone erronee descritte nel libro. Ma come liberarci da questi comportamenti autodistruttivi? Il primo passo è capire per quali ragioni persistiamo in un comportamento che non ci rende felici. Il secondo è invece adottare delle strategie che mirano ad eliminare tale comportamento. Ecco dunque le 11 grandi strategie che ci permetteranno di uscire per sempre dalle zone erronee. 1. Controlla i tuoi stati d'animo per interpretare gli eventi in modo positivo. 2. Impara ad amare te stesso per avere maggiore autostima ed essere in grado di amare gli altri. 3. Non avere bisogno dell'approvazione degli altri. 4. Liberati dal passato per vivere appieno il presente. 5. Tieni lontano il senso di colpa e l'inquietudine. Due sentimenti assolutamente distruttivi ed inutili. 6. Esplora l'ignoto, ossia non avere paura di fallire e sia aperto rispetto a nuove esperienze. 7. Abbatti la barriera delle convenzioni, ovvero liberati dai doveri ed obblighi imposti dagli altri. 8. Non cadere nella trappola del voler agire sempre in modo giusto ad ogni costo. Conta di più quello che vuoi rispetto a ciò che è giusto. 9. Smetti di rimandare a domani, ossia liberati dalla procrastinazione. 10. Dichiara la tua indipendenza psicologica rispetto alle altre persone. Ed 11. Dici addio all'ira, che è solo un ostacolo e che puoi assolutamente controllare. In questo episodio del podcast ho scelto di concentrarmi su due zone erronee in particolare. Iniziamo dalla prima. Impara ad amare te stesso. Da piccoli ci hanno insegnato che amare noi stessi è un male e abbiamo quindi associato questo sentimento all'egocentrismo e alla presunzione. Il problema è che non possiamo amare gli altri se non iniziamo ad amare noi stessi. Amare, secondo l'autore, la capacità e volontà di permettere alle persone a cui si vuole bene di essere ciò che vogliono essere, senza insistenza e pretesa alcune che esse diano soddisfazione a noi stessi. Per amare gli altri per quello che sono, dobbiamo prima amare noi stessi. Se siamo sicuri di noi stessi, non vogliamo che gli altri siano come noi. La chiave per amare noi stessi è l'autoaccettazione. Ognuno di noi ha una serie di opinioni su se stesso, spesso negative, e per accettarci dobbiamo lavorare sulle immagini che ci siamo fatte di noi. Una delle prime cose da accettare è il nostro corpo. Viviamo in una società in cui le donne sono spinte a rifiutare la loro bellezza naturale e devono accettare delle convenzioni sociali che sono continuamente veicolate dai media. Un altro aspetto su cui lavorare riguarda la nostra intelligenza. Possiamo scegliere di essere brillanti quando e come vogliamo. Non esiste campo in cui siano le doti innate a determinare le nostre capacità. Sono il lavoro e la pratica a renderci più capaci ed intelligenti. Molte persone invece si disprezzano e arrivano a pensare di essere poco intelligenti, rifiutando magari complimenti oppure dando sempre il merito alla fortuna, ai propri geni o ad altro. Amare se stessi vuol dire anche non lamentarsi. Le lamentele sono il rifugio di chi non ha fiducia in se stesso e raccontare agli altri quello che non ci piace serve solo a prolungare l'insoddisfazione. Per iniziare ad accettarci dobbiamo imparare a dominare i nostri pensieri e cambiare comportamento, smettendola di lamentarci con noi stessi e con gli altri. Ecco qualche spunto per aumentare autostima ed amore per se stessi. Accetta senza remore i gesti affettuosi dei tuoi cari. Concediti un po' di sonno e una passeggiata dopo una giornata di lavoro molto stancante. Mangia in modo più sano per volerti più bene. Impara a separare il tuo comportamento dal tuo valore. Un errore al lavoro non dovrebbe mai farti dubitare del tuo valore. Impara ad amare la persona più bella, eccitante e stimabile che sia mai esistita, ossia te stesso. Un'altra zona erronea molto comune è la dipendenza psicologica. Si tratta di un rapporto che non permette di scegliere e che ci impone di essere quello che vogliono gli altri. Se in un rapporto sentiamo di dover soddisfare determinate attese e soddisfare tali attese ci provoca un malessere interiore, allora ci troviamo pienamente nella zona erronea della dipendenza psicologica. Dietro questo rapporto si nasconde il tuo bisogno di protezione ed approvazione che ti impediscono di essere come veramente vorresti. L'indipendenza psicologica presuppone il non aver bisogno degli altri, ci spiega l'autore. La dipendenza psicologica è molto presente nel rapporto tra genitori e figli. Se nel regno animale i genitori hanno l'obiettivo di rendere i propri figli indipendenti il più presto possibile, negli uomini osserviamo comportamenti diversi. Molti genitori crescono i figli per dare senso alla propria vita e quando arriva il momento di separarsene scatta la tragedia. L'abbandono del nido dovrebbe essere un passaggio assolutamente naturale ma molti genitori fanno sentire in colpa i propri figli o peggio inducono il timore che senza di loro i loro figli non potranno cavarsela. Per insegnare l'indipendenza psicologica ai nostri figli dobbiamo sforzarci di trattarli come nostri pari, ossia come persone adulte. E questo nel bene e nel male. Poi non cerchiamo di evitare difficoltà e problemi ai nostri figli perché sono proprio questi ostacoli che ci hanno aiutato ad avere fiducia in noi stessi e a crescere. Molto spesso poi coloro che avevano un problema di dipendenza psicologica rispetto ai genitori replicano lo stesso modello nel loro matrimonio. In questo caso il problema si è solo spostato. Un rapporto impostato sull'amore è secondo l'autore quello in cui si permette all'altro di essere ciò che vuole senza tendersi né pretendere nulla. Sappiamo bene che in molti matrimoni invece il rapporto tipico è quello del dominio sottomissione. Un coniuge domina l'altro imponendo il proprio modo di vivere e limitando la libertà dell'altro. Ma il segreto per un matrimonio felice e duraturo è invece permettere all'altro di essere come vuole ed amarlo per quello che è senza pretendere di dominarlo o possederlo. Ecco qualche strategia per liberarsi dalla dipendenza psicologica. Stilare una personale dichiarazione di indipendenza in cui stabilisci come intendi gestire ogni rapporto. Spiegare a ciascuna delle persone verso cui ti senti dipendente che hai deciso di agire autonomamente. Poi esporre il tuo stato d'animo ad una persona che sta tentando di dominarti psicologicamente. O ancora per un figlio lasciare che la sua camera sia davvero sua, ossia uno spazio in cui può sentirsi libero ed indipendente. E per finire concedersi la libertà di scegliere. Se tu ed il tuo partner avete voglia di fare due cose diverse una sera fatele e basta. Non dovete sempre trovare un compromesso per fare una stessa cosa insieme. Il segreto di chi vive una vita appagante e ha un rapporto felice con le persone che ama è proprio l'indipendenza psicologica. Uscire dalla zona erronea della dipendenza psicologica diventa dunque fondamentale per la nostra felicità e per quella dei nostri partner e dei nostri figli. Per oggi è tutto. Se vuoi approfondire il libro di Dyer e saperne di più sulle altre nove zone erronee ti ho lasciato un po' di link in descrizione ed in particolare il link verso il mio articolo sulle zone erronee appunto. Si tratta di un libro di facile lettura e dal quanto utile. Alla fine del libro si ha anche la sensazione che l'autore sia divenuto una sorta di amico fidato che ti dà consigli in modo spassionato per aiutarti ad essere più felice. Grazie per aver ascoltato questo episodio fino alla fine, spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Ecco un po' di cosette che potresti fare per non perderti i prossimi episodi, aiutarmi a far conoscere il podcast ed anche aiutare altre persone che potrebbero trovarlo molto utile. Lascia un bel commento ed un voto se l'hai ascoltato su Apple Podcast o iTunes, clicca su segui se l'hai ascoltato su Spotify o se sei su YouTube abbonati e lascia un commento o un like. Questo è molto importante per aiutarmi a proporre dei contenuti gratuiti e far conoscere a più persone quindi il podcast. E se ti interessano i grandi libri e le grandi idee di crescita personale puoi raggiungere la mia lista di contatti e ricevere subito delle risorse gratuite per migliorare te stesso e la tua vita. Per farlo ti basta andare sul mio blog all'indirizzo lucasadurni.com slash podcast. Il nome del mio sito contiene il mio cognome che è un po' difficile da scrivere quindi ecco come scrivere all'indirizzo web lucasadurni.com slash podcast. Grazie per l'attenzione, buona giornata o buona serata e soprattutto buona crescita!